E' stata presentata stamane presso la Sala degli Specchi del Comune di Bitonto la nuova stagione teatrale 2024-2025 del Teatro Traetta. Una stagione teatrale ricca, quella che il Comune di Bitonto, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, ha definito per questo nuovo anno. Una stagione che contempla nel suo insieme 16 spettacoli di prosa, ma anche spettacoli di danza e teatro per i ragazzi. Un impegno importante per le due istituzioni che daranno al Teatro Comunale Traetta, la consapevolezza che sul palcoscenico, anche quest'anno, andranno in scena alcuni dei nomi più importanti del panorama artistico nazionale. E' una stagione davvero ricca, quella che oggi presentiamo, composita, multidisciplinare. Penso che le scelte del Comune di Bitonto confermino questa vocazione di un teatro plurale, aperto a tutti, alla collettività, a tutti i generi, a tutte le discipline. Sollecitando sia l'attenzione di grandi attori e artisti provenienti da fuori Puglia, ma una valorizzazione e un'attenzione sempre rivolta al territorio pugliese e anche a quello cittadino. Quindi davvero possiamo essere orgogliosi di questa stagione. Una stagione di prosa corposa e insieme poi al welfare culturale, anche lì ci sono delle ottime rappresentazioni, delle scelte che abbiamo condiviso con l'assessorato ai servizi sociali. Riconfermiamo poi anche il teatro, un teatro sperimentale, un teatro danza sperimentale che ci sta dando tante soddisfazioni, è sempre pieno e soprattutto attira tantissima gente di fuori. Amanda Sandrelli, Paolo Rossi, Marisa Laurito, Enrico Loverso, Gianluca Guidi e Gianpiero Ingrassia sono soltanto alcuni dei tanti nomi che calcheranno il teatro quest'anno, ma importanti saranno gli appuntamenti con il welfare culturale che abbreceranno a tutto tondo la stagione teatrale. Il secondo anno che puntiamo al welfare culturale, un teatro di qualità, un teatro che interessa sì una fascia, ma che coinvolge anche chi magari non si sente anche interessato direttamente a queste problematiche. Ci sarà tanto, tanto per riflettere, tanto anche per ridere, ci sono una serie di spettacoli classici, il fumati a Pascal, porteremo in scena, ma appunto c'è la possibilità di riflettere con la sezione dedicata al welfare senza appunto annoiarsi, ma sempre con possibilità anche di un po' di comicità che non guasta. Per la stagione di prosa la prelazione per i vecchi abbonati sarà attiva dal 14 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti dal 21 ottobre. I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili dal 28 ottobre e online dal 4 novembre anche sul circuito Viva Ticket. Per tutte le informazioni basta rivolgersi al botteghino del Teatro Traetta o all'Ufficio Cultura del Comune di Bitonto.